La Nurese archiviata alla pratica di Coppa Italia con l'eliminazione del Talor Gavoi sta scaldando i muscoli in vista dell'esordio in campionato in programma domenica al Frogheri contro il Tempio una sfida tra due squadre blasonate che in passato si sono scontrate per obiettivi importanti la stagione che attende la Nurese è impegnativa sia sotto il profilo fisico che psicologico occorrerà avere un'ottima condizione fisica per tutto l'arco del campionato con la possibilità di accelerare nel momento topico quando servirà uno sforzo supplementare per il rush finale il compito è regolare il motore della Nurese spetta a Marco Caligaris, preparatore atletico dei Verdi Azzurri che insieme al tecnico Bernardo Mereu ha pianificato sia il lavoro del ritiro precampionato che quello settimanale che la squadra svolgerà per tutto l'arco della stagione agonistica Marco Caligaris, preparatore atletico della Nurese tre settimane di ritiro, un primo bilancio quali punti cardine del lavoro che lei ha impostato? Allora stiamo lavorando in stretta sinergia col mister proprio per cercare di dare una visione proprio di allenamento integrato sia quella che è la parte atletica che è molto importante ma che diventa molto importante se noi gli diamo una sinergia con quello che è che sono gli atteggiamenti tattici che il mister richiede ai nostri calciatori quindi la nostra preparazione atletica sia per una questione di tempistiche sia per una questione di ottenere il prima possibile determinati risultati è stato fondamentale che fosse integrata cioè che fosse molto con la palla, con grandi esercitazioni tecniche proprio per fare in modo che poi quello che chiede il mister sul campo abbia una concatenazione con la condizione atletica Come proseguirete? Avete fatto 15 giorni di doppie sedute quale sarà il lavoro tipo nella settimana di campionato? Quando si fa una preparazione di due settimane così intensa chiaramente è difficile ottenere immediatamente determinati risultati e quindi sarà fondamentale nella settimana tipo continuare a somministrare dei carichi che consentano nel corso della stagione di mantenere il più possibile una condizione ottimale per la prosecuzione del campionato Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!